Siamo qui stasera al Teatro Brusnelli di Dueville perché abbiamo accettato una nuova sfida, quella di mettere in scena un teatro per rappresentare i 60 anni di storia di questa azienda. È una scelta abbastanza avveniaristica, nel senso che non ci sono tante esperienze di questo tipo e ci è piaciuta molto anche per riuscire a portare un numero di persone importanti al teatro, in effetti fra questa sera e domani sera ne porteremo circa 800 e dà la possibilità a tutti, anche al paese dove sono nato, di poter vedere lo sviluppo e tutto ciò che ha fatto questa azienda nel tempo e nella crescita in questi 60 anni. Siamo stati quest'anno invitati a lavorare per la realizzazione dello spettacolo dedicato al 60esimo anniversario di Rasotto Flotte. È stata un'emozione per noi poter entrare in questa azienda, conoscerla, studiarla nel profondo, abbiamo fatto un lavoro di inchiesta che ci ha visti conoscere e intervistare le persone che la compongono, dai dipendenti ai direttori e abbiamo potuto conoscere, apprezzare e abbiamo cercato di restituire tutto il materiale raccolto in uno spettacolo teatrale e speriamo di riuscire con il nostro spettacolo a rendere tutta la loro storia, tutta la loro mission e anche di divertire il pubblico. Siamo qui stasera al Teatro Busnelli di Dueville per celebrare un'occasione unica, i 60 anni di Rasotto Flotte, che è un'azienda con cui abbiamo la fortuna di collaborare come Forma da diversi anni. Abbiamo deciso di farlo insieme attraverso il magico mondo del teatro per raccontare la storia di un'azienda ma soprattutto la storia delle persone dietro l'azienda ogni giorno.